Preparatevi, ciò che sta per svolgersi non è solo la continuazione di una storia, ma l'apertura di nuovi segreti e drammatici sviluppi che metteranno alla prova il legame tra i nostri amati protagonisti. Non perdere nemmeno un battito di cuore di questa avvincente narrazione. Iscriviti al canale, attiva la campanella e tuffati con noi in un viaggio emotivo attraverso i paesaggi mozzafiato e le passioni ardenti di Terra Amara. Preparati a essere sorpreso, commosso e completamente catturato dal prossimo episodio. È tempo di scoprire, riusciranno Zuleyah e Akan a superare le sfide che li attendono? La loro storia ti aspetta. Accendi le emozioni. La storia inizia ora. Shermin, trasformata in un'abile ladra, penetra furtivamente nella villa con un preciso obiettivo, rubare l'amuleto d'oro della piccola Leila, un gioiello carico di mistero e desideri inespressi. Parallelamente, Fikret e Zip si incontrano per la prima volta e tra loro nasce immediatamente una scintilla irresistibile, un preludio a un legame profondo e complesso. Mentre questi nuovi sentimenti germogliano, il matrimonio tra Zuleyah e Akan è oscurato dall'improvvisa scomparsa di Lutfie. Nonostante il trambusto, la coppia riesce a celebrare un matrimonio indimenticabile, una promessa di amore eterno scambiata sotto gli occhi di amici e familiari. La stessa sera, un dialogo carico di intenzioni si svolge tra Rashid e Ghaffur. Rashid suggerisce che Grier, sua cugina, sarebbe la sposa ideale per Ghaffur. Con dignità e indignazione, Ghaffur respinge l'idea, ribadendo la sua libertà di scegliere, sottolineando che Grier non è la donna che vuole al suo fianco. Nel frattempo, Sherman e Betul, prive di casa e risparmi, sono costrette a dipendere dall'ospitalità di Zuleyah. Nonostante la generosità di Zuleyah, che offre loro cibo e rifugio, entrambe le donne si perdono in un limbo di rancore, incapaci di riconoscere il valore dell'aiuto ricevuto. Il mattino successivo, Sherman approfitta di un momento di distrazione di Fadik, che stava nutrendo Leila, e sottrae l'amuleto d'oro al collo della bambina. Tornata a casa, il confronto con Betul è denso di emozioni. Sherman confessa di sentirsi una ladra, mostrando l'amuleto e maledicendo la famiglia Yaman per le sofferenze inflitte. Questo gesto disperato evidenzia la sua caduta morale e il profondo senso di disperazione. In un abbraccio, Betul cerca di consolare sua madre, promettendo che presto le cose prenderanno una svolta positiva. Questo episodio di Terra Amara intreccia abilmente emozioni intense, segreti rivelati e la costante ricerca di redenzione, offrendo uno sguardo coinvolgente e profondo nelle complesse dinamiche dei suoi personaggi. Quando Kolak lascerà questo mondo, la sua vasta ricchezza passerà nelle mani dei suoi eredi, che finalmente potranno godere della vita che tanto meritano. Questo evento promette di segnare l'inizio di una nuova era per la famiglia. Nel tessuto quotidiano della vita di Villa Yaman, un piccolo dramma si svolge quando Fadik e Gevria portano notizie a Zuleia, riguardo a Sherman e Betul. Le due donne, in un gesto di palese dispetto, avevano lasciato la casa di Gaffur con le valigie in mano, solo per fare ritorno poco dopo. Zuleia osserva il loro comportamento bizzarro, ma le preoccupazioni per i preparativi del suo imminente matrimonio con Akan la distraggono dal ponderare troppo su tali vicissitudini. Zuleia e Akan, immersi nei preparativi, decidono di optare per una cerimonia nuziale semplice e intima. Convincente e determinata, Zuleia persuade Akan a rimanere nella villa, prendendo in mano le redini dell'eredità di famiglia. Questa decisione segna non solo la continuità della gestione familiare, ma anche l'impegno di Akan a costruire un futuro con Zuleia. Contemporaneamente, al club di Adana, Lutfia e Cetin nutrono la speranza che Fikret possa dimenticare la sua infatuazione per Zuleia e trovare l'amore vero. Con intenzioni amichevoli, organizzano un incontro tra Fikret e Zip, orchestrando una cena come pretesto per far conoscere i due giovani. Al suo arrivo, Fikret è piacevolmente sorpreso da Zip e l'attrazione sembra essere reciproca, promettendo l'inizio di qualcosa di potenzialmente bello e duraturo. Nel delicato gioco delle conoscenze, gli sguardi tra Fikret e Zip non lasciano spazio a dubbi. Un'attrazione palpabile e reciproca si è accesa tra loro. Dopo la cena, decidendo di prolungare la serata, Fikret offre a Zip un passaggio a casa. Il tragitto in auto si trasforma in un'occasione per un approfondimento personale, in un'intimità crescente che suggella la loro affinità emergente. Fikret, gentilmente, si offre di aiutarla a trovare una nuova abitazione, permettendole di abbandonare l'albergo. Zip, grata per l'attenzione e il supporto, accetta con entusiasmo l'invito di rivedersi, lasciando presagire l'inizio di un dolce capitolo per entrambi. Mentre Fikret rientra a casa con un sorriso radioso, altrove, il fratello di Abdu Kadir, nel cuore della notte, dà il via a un sinistro piano di vendetta contro Kolak. Con una meschina astuzia, riesce a introdursi in casa di Kolak e, in un gesto bizzarro e disturbante, urina nella sua stanza e vi lascia una gallina. Questo atto provocatorio e surreale tormenta Kolak, che si consuma nel pensiero di come l'intruso possa muoversi così indisturbato. Il giorno seguente, Fikret visita la villa per aiutare sua zia e il piccolo carema a trasferirsi, poiché Lutfi ha deciso di lasciare la residenza di Zuleia alla vigilia del matrimonio imminente. Il sindaco saluta i lavoratori con grande affetto e riconoscenza e ringrazia Zuleia per l'accoglienza e il supporto ricevuti nei mesi passati, enfatizzando quanto si sia sempre sentita ben accolta, mai un ospite. Nel frattempo, Zuleia e Akan si dedicano agli ultimi preparativi domestici, mentre Zuleia, aiutata con amore e cura da Fadik, si veste con l'abito da sposa. Fadik le offre gli auguri più sinceri per questa nuova fase della sua vita, esprimendo il desiderio che la pace possa finalmente regnare su quelle terre, inaugurando un capitolo ricco di speranza e bellezza. Commossa, la vedova di Demir respira profondamente, cullata dall'emozione e dalla promessa di nuovi inizi. In questo clima di rinnovata speranza, la piacevole chiacchierata tra Zuleia e le sue amiche viene interrotta dall'arrivo di Akan, impaziente di vedere la sua futura sposa prima della cerimonia. La sua premura riflette il desiderio ardente di iniziare al più presto la loro vita coniugale, suggellando un legame che promette non solo amore, ma anche un profondo impegno reciproco in un contesto rinato. Con un gesto ricco di affetto, Akan dona a Zuleia una collana di perle, meticolosamente scelta per lei, simbolo della loro imminente unione. «Grazie per questo gesto speciale», risponde Zuleia, il cuore gonfio di gratitudine. Pochi istanti dopo scendono insieme in soggiorno, dove alcuni ospiti li accolgono con sorrisi e congratulazioni. Alla casa di Gaffur, Betule e Shermin, escluse dalle nozze, scrutano ogni movimento alla villa con occhi invidiosi. Discutono ferventemente di come Zuleia sia riuscita a elevarsi tra le donne più influenti di Turchia, specialmente ora che sta per unirsi in matrimonio con Akan Gumusoglu, un uomo di notevole ricchezza. Le due, confinate in condizioni misere, attendono con impazienza la morte di Kolak per poter ereditare la sua fortuna. Intanto, un imprevisto scuote gli animi. Lutfi, che dovrebbe ufficiare la cerimonia, risulta irreperibile. Preoccupata, Zuleia decide di rinviare il matrimonio fino a rintracciarlo. Gaffur e Rashid coordinano una squadra di ricerca composta dai dipendenti della villa. La tensione è palpabile quando Zuleia riceve una telefonata. Lutfi ha lasciato il municipio cinque ore prima, dirigendosi verso la villa come previsto, ma di lei si sono perse le tracce. Nel cuore della comunità si diffonde il timore che Kolak, desideroso di vendetta contro Lutfi per un ordine di demolizione, possa averle fatto del male. Le autorità intervengono prontamente, arrestando Kolak come principale sospettato della scomparsa del sindaco, anche se lui proclama la sua innocenza, che in questa circostanza è sincera. La verità emerge quando Lutfi riappare alla questura, sana e salva, raccontando di essere stata vittima di un furto d'auto da parte di Vap, un delinquente locale. Nel panico, Vap aveva approfittato di un momento di distrazione per rubare l'auto di Lutfi e abbandonarla sulla strada, mentre lei era momentaneamente assente dal veicolo. Con la situazione chiarita, Zuleia e Lutfi fanno ritorno alla villa, dove le nozze possono finalmente avere luogo. L'emozione è tangibile, mentre Lutfi ufficializza la cerimonia. Gaffur, la nonnina, Agnan, Leila e Gili, altri ospiti, osservano con gioia. Zuleia e Akan si scambiano le promesse. Unisco il mio destino a quello di Akan, dice lei. E io al tuo, risponde lui. Gli ospiti applaudono calorosamente, celebrando l'unione dei due sposi, che ora, ufficialmente marito e moglie, condividono la loro felicità con tutti i presenti. Quella notte, l'atmosfera al club di Adana è elettrica, vibrante di felicità e celebrazioni. Zuleia e Akan, ora marito e moglie, inaugurano la serata con il loro primo ballo, avvolti in un'aura di amore e complicità che illumina la sala. I riflettori sono tutti per loro, i nuovi sposi, che si muovono armoniosamente al ritmo della musica, esemplificando la perfetta unione delle loro anime. Nel bel mezzo della festa, Fikret fa il suo ingresso, accompagnato da Shetin. È venuto principalmente per verificare il benessere della sua zia e per offrire i suoi migliori auguri agli sposi. Tuttavia, la sua attenzione viene catturata all'istante da Zip, presente anch'essa all'evento. I loro sguardi si incontrano e si riconoscono. Un magnetismo inconfondibile li lega subito. Fikret, colpito e deciso, non perde tempo e la invita a ballare. La chimica tra loro è palpabile e non passa inosservata. Tutti intorno iniziano a notare il legame speciale che si sta formando sotto i loro occhi. Con il calare della notte, Akan e Zuleya fanno ritorno alla loro nuova casa, mano nella mano, pronti a iniziare la loro vita coniugale. La villa, che ora è il loro nido d'amore, li accoglie con silenziosa solennità. Entrambi sono travolti da emozioni profonde, realizzando il sogno di una vita condivisa. Una volta nella loro camera da letto, l'intimità del momento li avvolge completamente. Zuleya ribadisce i suoi sentimenti a Akan, parole che si intrecciano con promesse di eterna unità. «Che la nostra felicità duri per tutta la vita», sussurra lei con voce carica di emozione. Il loro primo bacio come marito e moglie è delicato ma appassionato, sigillando le loro promesse e aspirazioni. Il cammino che le ha portati a questo istante è stato pieno di ostacoli e incertezze. Ci sono stati momenti in cui sembrava che Zuleya avesse perso interesse, ma l'amore, tenace e vero, ha trovato il modo di riunirli. Ora, finalmente, stanno insieme dove l'amore ha trovato la sua dimora definitiva, un luogo sacro e impenetrabile. Questo è il culmine di una storia d'amore travagliata ma intensa, un finale perfetto per i nostri amati personaggi. Questo episodio di Terra Amara conclude un capitolo emozionante, ma la storia di Zuleya e Akan è ancora piena di sorprese e momenti indimenticabili che attendono di essere scoperti. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi episodi e vivere con noi ogni emozione di questa appassionante narrazione. Condividi la tua passione e celebra con noi le vicende di amore e coraggio, commentando le tue impressioni. La tua voce arricchisce la nostra comunità e rende ogni episodio ancora più speciale. Iscriviti ora e continua a sognare con noi. Grazie per averci accompagnato fin qui e non vediamo l'ora di esplorare insieme i prossimi capitoli. Ti è piaciuto questo episodio? Lascia un commento con le tue impressioni!